Non ci posso credere, mi hanno freddo... Nooo! Ciao ragazzi e ben ritrovati nel disastro di laboratorio che mi ritrovo. Disastro neanche troppo perché qui ho sistemato un po' apposta per fare questo videazzo. A proposito di questo video, oggi andrò a fare una cosa che raramente avete visto su YouTube, ovvero unboxing e test di un laser. Però prima vi chiedo una cosa, un favore, vediamo se è vero l'algoritmo di YouTube che premia i like e i commenti, non ci ho mai creduto ma sono tutti che chiedono commenti e like nei video, un motivo ci sarà. Mettete un like sulla fiducia e lasciate un commento anche a caso, qualsiasi, quello che volete, anche non inerente al video. Voglio vedere se è vero che l'algoritmo favorisce la visualizzazione del video a chi ha più commenti e like. Torniamo a noi, oggi faremo un test, un unboxing, un montaggio, quello che volete, molto spartano. Se cercate qualcosa di tecnico, vi consiglio di andare a vedere il video di Daniele Tartaglia che ne parla proprio a... Come avete visto dalla copertina, questo video punta molto sulla simpatia, perché di tecnico ci sarà molto poco. Adesso spostiamo queste cose qua. E questo qui è il Creality Falcon 2, 22 Watt di pura potenza effettiva. Promette di tagliare del abete anche da 22 mm con due passate. E promette pure di incidere a colore i metalli. Vabbè dai, proviamo, proviamo. Prima di cominciare, devo ringraziare pubblicamente la Creality, perché crede talmente tanto in me, nel mio progetto e nel mio canale YouTube, che mi ha spedito questo laser. Pensate, ha solo visto il bonifico che gli ho fatto del prezzo intero e me l'hanno spedito. Davvero bravi. Grazie, grazie. Eccoci qua. Allora, promettono che è già tutto montato. Adesso proviamo. Innanzitutto la sicurezza che viene sempre prima di tutto. Sempre. Sempre. Andiamo all'unboxing chirurgico. Piano, piano. Che chi va piano va sano. E va sano. Va sempre sano. Chirurgia netta. Tac. Allora, cosa vediamo qua? Nulla. Praticamente nulla. Ma cos'è? Stai tagliata malissimo sta roba. Allora, qualche informazione tecnica che non sono capace di dare. Ah, però c'è una cosa che io ho sempre sognato di fare. Adesso che ci penso, aspetta che cambio inquadratura. Questo, sapete che cos'è? È il libretto distruzioni. Poi, vediamo cosa c'è qua. Allora, ne all'interno ci sono, ok, un SD, le chiavettine, le varie cosette. Ah, le chiavi per l'accensione perché è tipo un'automobile questa. Senza le chiavi non parte. Qua sono i piedini, interessantissimi perché puoi regolargli le due altezze, anche se Daniele Tartaglia, il nostro caro amico Daniele Tartaglia consiglia di mettere già la doppia altezza perché un laser più alto è molto più gestibile. Bravo Daniele, bravo! Qui abbiamo il cavo. Ah no, qua c'è. Ecco, uno dei motivi per cui ho preso questo laser è l'air assist integrato e comandabile da software. Praticamente con light burn posso... Ma tanto le sapete già queste robe, dai, dai, dai. Anzi, adesso metto una musica. Eccolo qua, il re, il re del mondo, guardate che bestia che è, che bestia. E vabbè dai, ma c'è se lo devo confrontare con l'hortur che ho io è mamma mia, oh tanta roba. Guarda qua che bomba, mamma mia, pesantissimo, va bene. Vediamo se la struttura è pronta come millantano, ogni tanto dico delle parole che non so neanche perché le conosco, ma millantare significa quella roba lì. Allora. Ok. Ci siamo. Dov'è il nido d'ape? No! Non c'è il nido d'ape dentro! Non ci credo! Non ci credo! Non ci posso credere, mi hanno freddo. No! Non ci credo! No, non ci posso credere! Vabbè che ce l'ho già, quello nido d'ape è anche più grande. Tiè! 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 Dai, togliamolo e poi ve lo faccio vedere sul tavolo. Allora, alla fine si presenta così, montato e montato, praticamente un paio di minuti ed è pronto. Erano un po' allentate le viti qua e qua e quella che tiene sul laser, ma in tre secondi con le brugole in dotazione è bello che si è sistemato. Adesso questo qua è l'air assist, poi andrà collegato qua e lo porto di sopra, vado a spodestare per un attimo il vecchio Arthur, che terrò comunque perché è una bomba, e così lo testiamo. Eccoci qua, adesso spodestiamo un attimo il vecchio Arthur, fedelissimo compagno, mettiamo il Creality e facciamo due test. Per fortuna io avevo già preso Tempia dietro la base a nido d'ape, e meno male perché non era in dotazione con il Creality quando avrebbe dovuto esserci. Qua mi sa che vengono usati due pesi e due misure, due pesi e due misure. Vabbè dai, comunque credo anche di essere stato scammato tantissimo con questa qua perché l'ho trovata tipo su Amazon a 90 euro, una roba che veramente... Vabbè, lasciamo perdere. Procediamo! Allora, intanto l'ho montato un po' così alla ca... Castello del cuore. Qua comincia a lampeggiare qualcosa di rosso, ma finché non dà problemi, come la macchina, può aver acceso anche l'albero di Natale, ma se continua ad andare avanti, va avanti. Allora, primo esperimento di taglio. Un cuore su del abete da 18 mm. Ci andiamo subito piano, eh. Vediamo se lo taglia. Faccio due passaggi a queste impostazioni qua. 90 di potenza, 300 di velocità. Sto andando totalmente a caso, ma speriamo di aver azzeccato. Allora, la prima versione non l'ha tagliata per niente, neanche il segno dietro. Mentre la seconda, sì, in realtà l'ho preso a martellate per farlo uscire. Infatti è un po' distrutto. Quindi, con 200 di velocità e 98 di potenza, io adesso abbasso a 150, lascio 98 di potenza e secondo me 18 mm due passaggi di taglia. Allora, innanzitutto la qualità di taglio è veramente, veramente incredibile. Non sporca niente, non è neanche totalmente carbonizzato. Infatti, più si va lenti e più rischi di carbonizzare. Se invece fai qualche passaggino in più con velocità maggiore, ottieni un risultato molto più interessante. Allora, cosa ci portiamo a casa da questa esperienza? Intanto che la bete, comunque legno con spessore 18 mm, questo perché è morbido ovviamente, se metti del mogano ti ride in faccia, in due o tre passaggi te lo taglia senza fastidi. Perfetto, e fin lì ci siamo. Incisioni non stiamo a parlarne perché veramente incide legno come fosse burro. Qui sta provando adesso dell'acciaio inox. Ho messo 150 di velocità e 98% di potenza e voi mi direte, ma non puoi mettere il 100%? No, perché tutte le recensioni che ho visto dei laser dicono, non mettete mai al giando bargiando di bodenza. E allora metto il 98, ok? Va bene, andiamo. Questo invece è quello che succede quando tentate di incidere dell'inox per fare dei test. Incuranti del fatto che non puoi fissarlo con il biadesivo se questa zona raggiungerà mille e mille gradi. Infatti si è staccato e il risultato è questo. Don't try this at home. Bene, eccoci ritrovati dopo almeno due settimane dalla registrazione dell'ultima clip, che sono stato un po' impegnato. Adesso procediamo. Allora qua ho anche tentato di fare quella crocchio con la telecamera per vedere dove fare, ma è stato tutto piuttosto fallimentare. Allora, adesso facciamo un test. Prendiamo una piastra di acciaio presa su Aliexpress, se non si capiva. Allora, dicono che la inciderà a colori, eh? Io voglio proprio vedere, sono curioso. Adesso spellicolo e procediamo, perché se io non vedo non credo. Comunque, da un po' di tempo che lo provo e che lo testo, con molta poca potenza lui riesce a scavare tranquillamente nel legno, come una CNC. Avevo già fatto un video riguardo con l'Hortur, ma con questo è tutta un'altra storia. Magari ne rifaccio uno specifico, ma veramente apre la strada a milioni di utilizzi, questa cosa qua. Ecco qua. Allora, sono costretto a mettere uno spessore sotto quando vado a incidere cose così fine. Perché? Perché ho messo tutti e due i piedini in dotazione. Ma Daniele Tartaglia l'ha consigliato? Io lo faccio, lo faccio. Se Daniele Tartaglia me lo consiglia, io lo faccio. Se c'erano sette i piedini e Daniele Tartaglia ne diceva di metterne nove, ne mettevo nove! Dannazione! Eccoci pronti per il test. Allora, Daniele Tartaglia, il mitico, consiglia queste impostazioni qua. Lui mette addirittura il 100%, ma io metto 95% perché non mi piace spingerlo ai limiti. Ma, sono veramente curioso. Vediamo il risultato. Allora, eh boh, non capisco. A parte che sia tutto imberlato. Troppo forte, forse, non lo so. Eh, non è come il risultato degli altri, non so cos'è io. Allora, l'ho pulito un po', ma comunque non è a colori, è nero. E probabilmente non è acciaio inox questo, probabilmente, che ne so. Allora, ultimo test e poi lo chiudiamo qui. Provo a tagliare un rovere da due centimetri. Ok, l'abete che è morbido e quindi mangia come burro. Ma il rovere, che è bello duro, gli faccio fare dei passaggi in più. Vediamo in quanto lo taglia. Allora, intanto sto incidendo un QR code. E dopo farò il taglio del cerchio, praticamente, che venga tipo una medaglietta con un QR code. Ecco qua, per partire il taglio, vediamo come si comporta. Dai, torno dopo quando ho finito. Eccoci qua, sorpresa delle sorprese. Notte fonda, no, non è notte fonda, ma quasi. Secondo voi l'ha tagliato oppure no? Diciamo altri tre passaggi, ma non ne vale la pena, dai. Non ne vale la pena. E mentre lo faccio lavorare come un mulo, noi cosa facciamo? Tiriamo le ultime conclusioni. Laser da 22 watt effettivi. A noi hobbysti credo che non serva un watt in più. Non ne serve uno in più. Non è che ci mettiamo a tagliare la miera a casa, no? Non credo. E poi non basterebbe comunque un laser a diodo, ma ci vorrebbe CO2 e tutte queste cose qua che... Argomenti troppo seri per questo video. Quindi vi garantisco che questo laser per un hobbysta può fare tutto quello che serve. Dal taglio all'incisione. I legni li incide troppo addirittura. Devo andare su potenze veramente basse per riuscire ad inciderlo e basta. Altrimenti lo scava. Lo scava. Pensa di essere una CNC. E lo scava. Però questo apre un miliardo di altri utilizzi. Ovvero il riempimento successivo. O con resina o con stucco colorato. Incredibile. Vabbè. Magari farò un altro video su questo, ma è estremamente interessante. Quindi. Ultimo dato tecnico. Questo watt... Questo watt... Ultimo dato tecnico. Questo laser ha ben quattro laser interni che colpiscono degli specchi che convogliano tutto in un fascio laser incredibile da 22 watt. Però 6x4 fa 24. E quindi? Altri 2 watt dove sono finiti? Credo siano a far la spesa. Ma magari tornano eh. Ultimissima considerazione. Questo laser ha 22 watt e taglia molto bene il legno. Secondo me se ne avesse avuti 32 avrebbe tagliato con più semplicità. Mentre se ne avesse avuti 12 avrebbe fatto un po' più di fatica. Eh? Dopo questa conclusione incredibile vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti